ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi apriremo le prime due bustine della nuova collezione adrenaline in cell 2019 2020 che sono uscite proprio ieri queste sono le bustine che in più quest'anno compiono 10 anni adesso iniziamo ad aprirle in più settimana prossima ci sarà anche lo starter pack apriamo e abbiamo già subito del milan lucas biglia questa è una speciale poi guanti d'oro salvatore sirigu che è molto forte un'altra speciale in fioria fabien ruiz stella con centrocampo musso e petriccione del lecce e e poi il bomber del genoa cristian qua e pacchetto davvero bellissimo di lorenzo del napoli nuovo acquisto junita del cagliari in culo del forino poi portiere della sandoria avogardi che sarà il terzo portiere forse poi bruno alves gagliolo coppa imbattibile e poi idolo che per me hanno una grafica bellissima quest'anno tutte le carte anche le stelle e c'è ceppitelli per questo video è tutto e ci vediamo in un prossimo video ciao